L'International Campus Musica è un progetto culturale nato in Puglia, Polignano a Mare, nel 2005 e si prefigge l'approfondimento e lo studio della pratica strumentale e corale di insieme. Per dieci giorni, ogni anno, Polignano si trasforma in una piccola cittadella della cultura, in cui i musicisti provenienti da ogni parte del mondo si danno appuntamento e suonano insieme. Ogni partecipante al Campus Musica avrà la possibilità di approfondire un repertorio orchestrale, corale, avrà la possibilità di suonare in piccoli, grandi ensemble vocali e strumentali. Quello che poi accade è una vera magia. Grazie all'armonia che si crea all'interno del Campus Musica si abbattono le barriere linguistiche, culturali, etniche e si pongono le basi per durature e importantissime amicizie. Questi sono i fondamentali motivi per i quali vi invito tutti i musicisti e tutti gli appassionati di musica a venirci a trovare ad agosto per l'International Campus Musica in questa meravigliosa cornice che è Polignano Amaro.